Allora, questione The Game Awards e questione DLC. Voi sapete tutti ovviamente che il DLC, il The Elder Ring Shadow of the Earth Tree, come vedete anche da questa schermata, è stato inserito fra i possibili contendenti del gioco dell'anno e non solo, è stato in realtà inserito in tantissime categorie, ma Elder Ring Shadow of the Earth Tree è un DLC, è un'espansione. È giusto che un'espansione possa essere candidata a gioco dell'anno, non a una parte, un elemento, una sezione, quindi, che ne so, la sezione per esempio miglior direzione artistica o la sezione miglior narrativa, no, ma proprio alla sezione miglior gioco dell'anno. Stiamo parlando di un'espansione e quindi è lecito, secondo me, porsi questa domanda e cercare di dare qualche risposta ed è quello che cercherò di fare io oggi in questo video, partendo ovviamente dall'esempio di Shadow of the Earth Tree, che però è un esempio, non è assolutamente un video su Shadow of the Earth Tree, ok? Lo prendiamo come esempio perché quello è stato nominato effettivamente DLC, nominato a gioco dell'anno. Prima di iniziare però io vorrei ricordarvi che vado in live su Twitch quasi tutti i giorni e porterò Stalker 2 nella sua interezza, quindi seguitemi assolutamente su Twitch. Il primo giorno di Stalker 2 sarà mercoledì dalle 18.30 circa, faremo una live molto lunga, fino a verso le 11.30, fino a quanto vogliamo, e quindi vi esorto a partecipare alla live, trovate il link in descrizione. In più, se volete acquistare giochi a prezzi scontati, fra cui anche Stalker 2, ma tanti altri, potete dare un'occhiata a Instant Gaming, al quale sono affiliato, trovate il link in descrizione, e potete anche partecipare alla giveaway di Instant Gaming, tramite la quale uno di voi al mese viene estratto e vince un gioco a sua scelta da tutto il catalogo di Instant Gaming. Detto ciò, iniziamo a parlare un po' di questa questione annosa, spinosa. Che valore hanno innanzitutto i Game Awards? Ecco, sicuramente hanno il valore di fare pubblicità ad un gioco, sicuramente, perché comunque i vincitori dei Game Awards poi vedono di solito un aumento delle vendite dalla fine della cerimonia per i mesi successivi. Questo sicuramente è uno dei valori del vincere gioco dell'anno, sicuramente, perché si parla tanto di quel gioco, ritorna l'attenzione del pubblico, e qualcuno che magari prima era indeciso decide di comprarlo. In più, in più, si dice che comunque il vincitore del Game Awards potrebbe anche essere un modello, un'ispirazione per tutta l'industry. Ad esempio, se vincono sempre, vincessero sempre i Souls-like, per esempio, è probabile che le aziende punteranno sui Souls-like? È vera questa cosa? Secondo me, no. Le aziende basano i loro ragionamenti, casomai sulle vendite e sulla popolarità dei prodotti, non necessariamente su un premio vinto. Poi, a volte, le cose possono collimare, ma non sono sempre allineate e non sono nemmeno legate in maniera logica e conseguenziale. Le due cose possono essere staccate tranquillamente. Anche se, nei Game Awards, effettivamente, la popolarità abbiamo visto che, sebbene non sia esplicitamente indicato come un fattore, alla fine un po', un po', ha la sua influenza, diciamo così. Quindi, secondo me, il valore dei Game Awards è più che altro quello di far pubblicità al gioco e farlo vendere un po' di più negli anni a seguire, di dare... mesi a seguire, magari. Di dare anche, no, un po' di... di insegnare l'azienda che ha fatto il gioco di un'onorificenza. Questo. Ma, secondo me, non hanno veramente il valore i Game of the Year di ispirazione per altri giochi. Non più di tanto, credo, credo. Il motivo per il quale ci sono 7 miliardi di Soulslike non è perché Elder Ring ha vinto il Goti. Perché i Soulslike c'erano già da prima. Ovviamente, dopo Elder Ring, sono aumentati, sono aumentati anche di qualità, però, devo dire, e quindi... ok, ma è la popolarità del genere ad aver dato... adito a così tanti Soulslike. Alcuni di voi potrebbero dire eh, ma la popolarità viene da Elder Ring, anche da quando si parlava di Elder Ring prima che Elder Ring uscisse. Probabile, può essere, però, a mio avviso, non è quello l'unico motivo. Si deve guardare veramente alle vendite, all'interesse che suscita un determinato gioco e poi ci si mette dentro, insomma, si cerca di colmare quel buco di mercato, no? È stato annunciato Elder Ring, tanta gente ha mostrato tantissimo interesse, si va a coprire quel buco di mercato lasciato da Elder Ring che è stato solo annunciato con dei Soulslike che potrebbero, appunto, appetire, essere appetibili, anzi, a chi, a tutti coloro che hanno apprezzato il trailer di Elder Ring che è stato appena annunciato, no? Quindi anche prima del The Game Awards, della vincita, Elder Ring o comunque i Soulslike avevano scatenato un po' di interessi. Quindi, secondo me non è così connessa la roba, però, ovviamente, parliamo nei commenti, io sono qua, vi rispondo e rispondetevi anche fra di voi, sempre mantenendo toni civili, mi raccomando. Altra questione importante è cos'è un DLC? Un DLC è un'espansione che mantiene il world building del gioco base, in sostanza, che poi si aggiunge magari nuove parti di storia, personaggi, ma sempre legati al gioco base, comunque, in una certa misura. Poi magari aggiungeranno anche nuove armi, nuove location, nuove mosse, qualsiasi cosa. È sostanzialmente un'espansione di un gioco preesistente, non è un nuovo gioco, proprio perché tanti elementi del gioco base sono la base dell'espansione. Senza il gioco base l'espansione non potrebbe esistere. Ricordiamo anche che The Game Awards, il sito dice cos'è il Game of the Year? Riconoscere, recognizing, sto leggendo, un gioco che trasmette la migliore esperienza attraverso tutti i campi creativi e tecnici. Effettivamente, nella dicitura, non si parla di originalità, per esempio. Quindi, se uno volesse essere molto, non molto, però pignolo, diciamo così, un po' pedante, potrebbe dire e allora ci sta che Elden Ring possa partecipare, Shadow of the Earth Tree, e che possa anche vincere. Io infatti mi sento un po' di contestare proprio la descrizione della categoria. Cioè, quello che è descritto nella categoria va bene, ma secondo me ci deve essere anche un elemento di novità. Io, personalmente, un elemento di novità insieme a tutto il resto. Però, ripeto, questa è la mia visione personale. Quindi abbiamo detto che il DLC è un'espansione di un gioco preesistente che usa elementi del gioco preesistente, del gioco base, e che non potrebbe esistere senza il gioco base. Altra questione, e se Shadow of the Earth Tree si fosse chiamato Elden Ring 2, avrebbe potuto partecipare? Se, ovviamente, escludiamo il fatto che il gioco dell'anno possa partecipare un'espansione. Quindi, stiamo rimettendo tutta una questione di forma se cambiamo il titolo? Va bene? Il problema è che, secondo me, non è solo forma. Per quanto detto fino ad adesso, il gioco utilizza tanti elementi del gioco base. Senza gioco base non sarebbe potuto esistere. quindi, è effettivamente un nuovo gioco? A mio avviso no. Ripeto, la novità non viene menzionata nella descrizione. Un gioco che ti dà la migliore esperienza possibile attraverso tutti i campi tecnici e artistici. Un gioco qualsiasi nuovo, non nuovo, cioè nuovo ovviamente di quest'anno, però che sia un DLC o no, non importa. E quindi uno potrebbe contestare. Però io quello che mi sento di contestare, e adesso qua trago le mie conclusioni, è proprio questo, cioè la descrizione. Secondo me deve essere un gioco nuovo. E certo che Aldering Shadow of the Earth 3 dovrebbe poter partecipare ai The Game Awards, ma in una sezione dedicata. Una sezione dedicata alle espansioni, non ongoing game, perché quella è un'altra cosa. Si tratta di giochi che proseguono e che proseguiranno per anni con espansioni, aggiornamenti, eccetera, eccetera. Aldering non è questo. Shadow of the Earth 3 da solo non è questo. La questione qual è? Perché non mettono le espansioni? Perché ce ne sono poche. Poche all'anno e se ce ne fosse lo mettiamo tre all'anno dovresti nominarle tutte e tre per avere insomma una categoria abbastanza popolata da essere sensata. Ma se di quelle tre ce ne sono ce n'è una valida che facciamo? Questo è il motivo per il quale non mettono la categoria ed è comprensibile. Quindi accorpano tutto e dicono Shadow of the Earth 3 può vincere anche Game of the Year poi magari non lo faranno mai vincere però lo può fare. Ecco secondo me questo è un errore perché non è la realtà delle cose per quanto detto finora l'espansione è ed esiste solo in quanto esiste il gioco base utilizza molti elementi del gioco base compreso world building alcuni personaggi alcune location che possono essere connesse o tante cose del gioco base si costruisce su di quello quindi secondo me ha senso far gareggiare questi prodotti in una categoria a parte questa è la mia opinione fatemi sapere voi cosa ne pensate ovviamente commentate nei commenti dove se no commentare nei commenti è l'unico modo di commentare e quindi vi ringrazio per aver visto il video noi ci vediamo come al solito alla prossima fatemi sapere cosa ne pensate sono molto curioso ciao raga